Il re dei bacchi Ma tu hai messo le mattonelle nei telefoni? Ma non si può fare! Ah no? Faiù, io ti trasformerò da Babbo Natale a Babbo Cazzimba! Un miliardo di follower, pensa come Rosicam e Panale! Bro! Babbo Natale non arriva all'anno nuovo! Cosa vuoi diresti sopra questa meravigliosa camicia hippico-rustica? O giubbine chiusa! Cosa vuoi diresti sopra? Grazie.